Ma questa mappa è un sogno, raga! Dobbiamo restare fermi per 5 minuti e ci darà mille V-Bucks! Ci avete taggato in questo video per sapere se è vero o falso? Proviamo! Ok, sono nella mappa, devo solo trovare il timer. Collezione esperienza. Ho preso 5k di exp, così. Esperienza! 12k? Ho fatto già 20k in questa mappa, raga. Cioè, solo esplorandola. Ma raga, ma è un labirinto! Raga, il timer! Non è 5 minuti, ma è un'ora! Beh, ragazzi, non vi resta che provare per un'ora, però la mappa è bellissima e praticamente solo entrando vi fate 40k di exp. Secondo me, il video è vero.